ah non è giusto però dobbiamo parlare di molla con i giaretti e continuiamo con il nostro blind ranking e andiamo a commentare sempre un po' di outfit del Met Gala ciao ragazzi andiamo a vedere dal primo quello che ti piace di più e decimo quello che ti piace di meno posizioniamo un po' un chi meccani a chi meccani appartengono al passato secondo me quindi li metterei all'ottavo posto lei questo nude troppo nude basta l'ho girato lampadario questa è una queen versace si mi sembra è alto lei guarda una delle top 3 ti direi secondo posto passiamo agli anni questo era no non era lo stesso anno bello bello ti direi quarto posto ah quindi non è too much allora il Met Gala secondo me è l'occasione perfetta per osare cioè se mi vai a Cannes o a Venezia mi aspetto un po' di eleganza ok invece qua quando hai un tema quando anche puoi usare è proprio cioè è la moda è questo anche sono d'accordo c'è ora mai più quando vai lì devi approfitarne questo Lady Gaga che si era trasformata ha fatto tutto lo show tre look diversi questo era pazzesco ma è terzo posto direi bellissimo sì sì Jared Jared Lettingucci con la testa staccata beh iconico eh ti direi cavolo cosa ti direi perché non so se bruciarmi già il primo posto eh lo so lo so quinto perché gli altri li ho già messi ok perfetto oh signore Gesù Giuseppe questa era la loro volta in ira cioè sì un ira che ne avremmo fatto forse anche a meno allora io quando l'ho visto ho detto questa è la moda è la cosa io voglio essere così lo rivedo adesso di senza gli anni e dico ma che cavolo stavo pensando no è too much secondo me l'avevo già pensato quando l'ho visto ovviamente sei esperto io ma io ti dico sempre per il discorso dell'osare ci poteva forse stare poi come dici tu in epoche diverse vedo dei look di dieci anni fa e dico oddio però magari dieci anni fa avevano un senso quindi ti direi qui nono ok va bene nono un buon nono posto Gigi no Gigi Hadid non mi fa impazzire no ti direi l'ottavo posto l'ho già usato sì settimo allora ok ottimo Urca Zendaya bello questo look qua me la ricordo tipo gladiatrice di quelle importanti tipo Giovanna d'Arco lei io le do al primo posto ma non tanto per questo look ma per quello che in questo momento lei rappresenta proprio nell'interno del mondo moda per tanti può sembrare banale il lavoro che è stato fatto da Luzzo Rilo su di lei ma in realtà secondo me è stato fondamentale lei è riuscita a muovere milioni di fatturate per ogni brand che ha indossato she's the moment non è giusto però non è giusto che posti allora guarda io però è fresco magari tra qualche anno non ci piacerà più no no incredibile un lavoro di questo genere parliamo di Tyla in Balmain 2024 era il suo look di debutto tra l'altro cioè debuttare con un look del genere secondo me è un qualcosa di raro cioè farlo così bene cioè veramente questa qui è una cosa che guarderemo tra dieci anni e saremo ancora tipo what cioè brava e io sono tipo ossessionato infatti vorrei troppo che indossasse l'agward ci arriveremo sei ovviamente però lei meritava la top 3 perché veramente wow passiamo all'ultimo ah sono felice allora va benissimo Lil Nas Lil Nas io devo dire che ho sempre pensato fosse un po' sopravvalutato a livello stilistico non mi riferisco a livello musicale certo parliamo di moda esatto non mi piace il suo stile è lontano da quello che è il mio gusto personale questo lo trovo a volte un po' bizarro cioè capito sto d'accordo sì decimo posto direi che sta bene beh direi un'ottima classifica sì si mi distracce per Tyla Tyla ti amo quindi top 3 nella mia mente però con il resto grazie mille grazie a voi ciao ragazzi